Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi noi faremo la pasta di sapone. Ci servirà il sapone, farina, un recipiente e un cucchiaino. Iniziamo. Prendiamo il nostro recipiente e ci mettiamo un po' di farina. E ci mettiamo il nostro sapone e mescoliamo. Questa qui è una pasta che si asciuga all'aria, come l'altra che abbiamo fatto nell'altro video. Si può modellare, è una pasta morbida e facile da modellare. Quando vediamo che più o meno si può modellare, la mettiamo sul piano da lavoro. Prendiamo un po' di farina, ce la mettiamo sopra e impostiamo. Prendiamo un po' di altro sapone e impostiamo. E quando vedete che non si appiccica più alle dita, è pronta per essere impastata e creare qualcosa. Poi lo potete, per far asciugare o cuocere nel forno o lasciarlo sopra il termosifono. Questo qui è il nostro posto. Questo era tutto e al prossimo video. Grazie. Grazie.